Credo che non si tratti di votare pro o contro il finanziamento alle scuole private né tantomeno alle scuole cattoliche, non si tratta di votare pro o contro l'articolo 33 della Costituzione e il famoso inciso senza oneri per lo Stato, ma si tratta di votare se mantenere il sistema scolastico integrato che il Comune di Bonia ha costruito nel corso degli ultimi 20 anni e farlo funzionare in maniera tale che consenta al maggior numero di bambini di andare alle scuole materne. Se si tolgono i finanziamenti alle scuole private convenzionate, finisce che 350-400 bambini a partire dal prossimo anno non riusciranno più ad andare alle scuole materne. È ovvio che se ci mettiamo a votare su laico verso integralista, verso cattolico reazionario, la città vota laico, però questo non è il quesito, il quesito è diverso e farlo passare come un quesito sulla laicità, andarsi a cercare gli sponsor nazionali, alcuni di quali dicono di essere laici ma poi nei loro comportamenti sono assolutamente ideologici, che è ugualmente un contrario di laico, non mi pare una buona operazione. Certo se A vince riuscendo a portare alle urne il 70% dei bolognesi e ad avere il 60% dei favorevoli, di questo il Comune dovrà sicuramente tenere conto. Io non credo che queste siano le cifre, però anche qui io sono in linea di massima contrario al referendum consultivi e sono molto meglio surrogati da sondaggi di opinione, fatti bene costano anche meno i sondaggi di opinione. L'articolo 33 non è possibile interpretarlo, non è interpretabile, lo dicono esplicitamente, senza oneri per lo Stato significa senza soldi da parte dello Stato ai privati. Se siete d'accordo di mandare il vostro figlio alla privata siete padroni di farlo, siete liberi di farlo, ma non siete liberi di chiedere allo Stato che ve la paghi, semplicemente questo. E credo che tutti coloro che hanno il diritto di avere la scuola pubblica dal Comune abbiano il diritto di avere il posto nella scuola pubblica e non come ora che il Comune ha detto 423 bambini non hanno avuto il posto nella scuola pubblica gli ha detto rivolgetevi alla privata e non gli ha pagato la retta, così sarebbe gratis anche per loro, no, ha pagato i soldi alla scuola e la scuola poi li usa come gli pare. Se invece con quei soldi si costruissero delle sezioni, delle classi, si potrebbe ottenere il risultato che tutte le domande al Comune per la scuola dell'infanzia sarebbero evase, nel senso che tutti troverebbero il posto come diritto di tutti di averlo nella scuola pubblica e non in quella privata. Io voterò A per difendere primo la Costituzione italiana, secondo la scuola pubblica, per tutti, gratuita, laica e aperta a tutti. Il 26 maggio, domenica, io voterò certamente B, senza nessun problema, senza se e senza ma. Grazie a tutti.